Battere a Velkova Nicolova a cercare a Velkova Volosio, primo tempo di Diubuskina Prova a difendersi Zio La palla è alzata da Adams Barcellini la rimette di là Fribull per l'Undo Yamamai Diubuskina che difende Nicolova Elena Velkova alzata verso Diuf L'attacco di Diuf Difende ancora Nicolova La pipe di Barcellini La mette giù Volosio Leonardi a salvare quel pallone Lo va a attaccare Elena Velkova Ancora un salvataggio Uno scatto da parte di Barcellini Zio rimette la palla di là Lo scambio è lungo Volosio, primo tempo di Diubuskina Ancora Volkic in generale Alzare quel pallone Lo rimette di là Katice, free ball Per l'Undo Yamamai Volosio verso Diuf L'attacco di Diuf Ancora il muro Diubuskina Volosio, Marconi L'attacco di Marconi Lo difende Barcellini Senza fiato Katice per Rozzoi Mamma mia Che azione ragazzi Che scambio Erano 17 le difese Nel set precedente Il Limoco volle con Eliano Attaccato con l'efficienza del 6% Qui ragazzi Che difese Il ministro della difesa Potrebbe tranquillamente Essere qui A puntare una medaglia Sul petto di queste ragazze Grazie a tutti Grazie a tutti